Ancora conseguenze per le strade di Chieti, alla luce del recente nubifragio che si è abbattuto sulla città. Una buca si è aperta in via Madonna degli Angeli, smottamento in via De Turre. L'assessore Raffaele Di Felice sul posto assieme ai tecnici. Sì, possiamo dire che alla città di Chieti non mancano ultimamente disastri di questo tipo. E' chiaro che la pioggia abbondante di tre notti fa ha portato a evidenziare questo disfacimento di parte della rete fognaria. E' chiaro che è la rete fognaria che non ha retto quell'abbondanza di acqua e su alcuni punti c'è stato un cedimento del terreno. Il cedimento è avvenuto prima su via De Turre e ieri pomeriggio è venuta qui a via Madonna degli Angeli. Quando sono venuto ieri pomeriggio con i tecnici comunali abbiamo deciso immediatamente di chiudere il passaggio delle macchie su via De Turre e di recintare questa parte. Oggi insieme all'ACA stiamo facendo i sopralluoghi per vedere cosa e come intervenire. Ci siamo messi d'accordo che ci sarà una videoispezione su tutto il sistema fognario dell'area. A seguito di questa videoispezione decideremo come intervenire. Penso che l'intervento sarà diviso in due tempi. Il primo su via Madonna degli Angeli perché non possiamo assolutamente permetterci come città di Chiedi di chiudere questa feria. E' una delle più importanti di collegamento della città. La seconda su via De Turre. Quindi videoispezione entro la giornata, decisione immediata, programmazione dell'intervento su via Madonna degli Angeli, intervento successivo su via De Turre.